Anche se a me non piace, perché già cominciano ad essere signorini, no? Ah, cominciano ad essere, che interessa! Allora, un po' come tutti, siccome noi i talenti che riusciamo a individuare qui da noi, eccetera, facciamo di tutto per premiare con i Gianni, sappiamo che cosa significa valorizzare e dare importanza anche ai giovani, di modo che così siano sfornati. Questa è una cosa sicuramente simbolica, l'Associazione Culturale fa prateria a Sara Cristoforo per il suo talento musicale. Grazie.